Buongiorno, buon venerdì, buon fine settimana a chi ci segue in diretta, a chi ci seguirà indifferita, A View from Italy, The Watcher Post, dagli Utopia Studios in Roma, ed è un grande piacere avere il nostro ospite, sua eccellenza Youssef Balla, ambasciatore del Regno del Marocco in Italia. Benvenuto ambasciatore, un piacere averla con noi. Buongiorno, grazie per l'invito. Per cominciare, ci dice qualcosa sulle relazioni bilaterali tra Marocco e Italia? Qual è lo stato del rapporto politico, del rapporto economico, delle due comunità, quella italiana da voi e quella del Marocco qui in Italia? Certamente sono rapporti ancestrali che hanno conosciuto un impulso soprattutto nel 2019 con la firma del partenariato strategico multidimensionali. Questo rappresenta un vero impulso nel rapporto, sapendo che il Marocco ha questo tipo di accordi soltanto con tre paesi mediterranei. Quindi elevare il status di questo rapporto a un status strategico, stata una decisione politica comune, risponde alle nuove sfide e alle nuove ambizioni per rafforzare rapporti. Dico multidimensionali perché rappresentano un rafforzamento del dialogo politico, sicurezza, Parlamento e soprattutto economia. Certamente, come l'hai detto, il culturale, l'umano è importante e centrale in questi rapporti. La nostra comunità, che è la prima comunità straniera in Italia, gode di una situazione di integrazione modellica, rappresenta anche un grande sforzo, una grande contribuzione nell'economia e rappresenta anche un ponte culturale e umano fra i due paesi. A proposito di ponte, lei nei suoi interventi pubblici ha spesso presentato il ruolo del suo paese come un possibile ponte fra Africa, Nord Africa ed Europa. Vuole articolare meglio questo ruolo, questa visione che voi avete per il vostro paese? Certamente. Prima di tutto la geografia determina questo ruolo. Il Marocco è in una posizione geostrategica che le permette di giocare questo ruolo. C'è la cultura e la storia, una società aperta, una società di dialogo, una società di tolleranza che le permette anche di dialogare con tutte le corti. Si trova in un crocio di civiltà e di culture, ma soprattutto il posizionamento geostrategico e economico del paese. Il Marocco ha conosciuto negli ultimi anni un grande sviluppo socio-economico, è il secondo paese inversore in Africa, è il secondo paese in ricevere investimenti straniere, ha un rapporto prioritario con l'Europa, è un rapporto di partner, è un partner affidabile e quindi questi elementi gli permettono di giocare e costituire un'app regionale come provvedore, come forniture di stabilità nella sua area, euro-mediterranea, ma anche di collegare gli interessi economici dell'Europa con l'Africa. E questo come può essere addirittura potenziato, arricchito in una situazione delicata come quella attuale in cui ancora l'emergenza Covid è in corso e speriamo invece molto presto venga superata, come li ponete rispetto al vostro ruolo nel post-Covid in questo dialogo fra i due continenti? Certo, lei ha identificato un elemento essenziale nella integrazione regionale euro-mediterranea, che è questa situazione pandemica, dobbiamo soprattutto imparare da questa situazione e tirare delle lezioni per il futuro. Questa pandemia ci ha dimostrato che ci sono delle disuguaglianze grandi fra la sponda nord e la sponda sud del Mediterraneo, che dobbiamo rimediare con soltanto un impulso politico forte da parte dell'Europa, da parte dell'Unione Europea, verso la spunta sud, per rimediare queste disuguaglianze. Citerò qualche cifra. Il 90% del PIL dell'area euro-mediterranea si trova nei paesi europei, quando rappresentano soltanto il 40% della popolazione. Gli investimenti dell'Unione Europea nei paesi africani o della sponda sud del Mediterraneo, sono soltanto il 3% degli investimenti stranieri. Se possiamo fare una comparazione con gli Stati Uniti e con l'America del sud, gli Stati Uniti investono il 20% dei loro investimenti straniere nell'America del sud. Quindi ci vuole un sforzo ancora grande dell'Unione Europea, del paese della sponda nord, verso la sponda sud per rimediare queste disuguaglianze e questa opportunità della pandemia ce la offre nel senso di relocalizzare anche le catene di produzione, imparare da questa situazione importante. Le chiedo di articolare ancora. Cosa suggerirebbe lei per una visione complessiva? Lei ha evocato investimenti, immagino pubblici e privati, dell'Unione Europea e dei paesi europei singolarmente presi. Come evitare che invece altre vicende, quella dell'immigrazione, vengano vissute soltanto in termini conflittuali? Com'è possibile conciliare ad esempio una situazione di controllo dell'immigrazione con investimenti economici, diciamo trasformando i problemi in opportunità e le opportunità in gestione dei problemi? Assolutamente, lo ha detto chiaramente. Se deve iniziare cambiando l'ischema di pensamento. L'immigrazione è un'opportunità positiva per tutti. Quindi cambiare questo modo di pensamento ci porta a rafforzare la cooperazione in questo senso. non guardare il mare nostro come un cimentero, guardarlo come un'opportunità economica e soprattutto relativizzare questa questione dell'immigrazione, non instrumentalizzarla politicamente importante. nel senso, vi darò una cifra, da dieci immigrati africani che immigrano nel loro paese, soltanto due arrivano all'Europa, otto rimangono in Africa. Quindi il peso, c'è più immigrazione entro-africana che fuori dall'Africa. e esagerare questo fenomeno è una strumentalizzazione politica. I paesi della Spunta Sud hanno bisogno anche di più aiuti da parte dell'Unione Europea per controllare questo fenomeno dell'immigrazione. L'immigrazione è negativa quando è sfruttata dalle reti criminali, da tratti di sere umani, sì, dobbiamo combatterla, ma l'immigrazione è un fenomeno umano naturale che ha anche un'opportunità economica per tutte le parti perché tanto apporta anche nel suo senso un co-sviluppo, aiuta a un senso di co-sviluppo fra le due parti, tanto l'Africa come l'Europa. Quindi se comprendo bene, lei propone una visione d'assieme investimenti e rapporti economici, immigrazione regolare e controllata, contrasto all'immigrazione irregolare, al traffico di esseri umani naturalmente. Senta, a proposito di questioni economiche, poi invece torneremo a una questione geopolitica, è un tema che già è decisivo, ma lo sarà sempre di più, è quello energetico. Le chiedo, per un verso, lei che visione ha delle scelte che sta facendo l'Unione Europea? Non le pare che il nostro continente rischi di creare una situazione di sua eccessiva dipendenza energetica da altri soggetti? E per altro verso, che ruolo potete giocare voi nelle energie tradizionali e in quelle rinnovate? Certo, l'energia adesso è una sfida comune, una sfida globale, il Mediterraneo ne soffre e quindi tutti siamo chiamati a fare più sforzi per rimediare e soprattutto realizzare delle risultate ottimi in questo senso. Da parte del Marocco assume la sua responsabilità internazionale, anche se non in paese che assume la sua responsabilità internazionale e si è posizionato come paese leader anche a livello internazionale in temi di energie rinnovabili dal tempo. Per dire un esempio, le energie rinnovabili rappresentano adesso il 42% della produzione elettrica nel Marocco con l'obiettivo di raggiungere il 52% anche di più del 52% nel 2030. In Marocco, come sapete, c'è anche la centrale di energia solare più grande nel mondo, in Ouarzazate, quindi c'è un compromesso con la comunità internazionale molto forte da parte del Marocco. E anche nel Marocco ha fatto una scelta molto decessiva verso l'idrogeno verde che è l'energia del futuro. Quindi tutti questi elementi sono importanti, ma soprattutto in Africa dove rappresenta il continente che emette meno contaminazione, ma ne soffre di più che altre parti, soprattutto nel terreno dell'agricoltura, nel terreno della degradazione del sole agricola e questo anche provoca dei problemi sociali, anche politici, fra i quali l'immigrazione, fra i quali i conflitti anche interni. Entriamo nell'ultima parte della nostra conversazione e torniamo ai temi geopolitici e geostrategici che lei aveva evocato in apertura. Le chiedo per prima cosa un giudizio sulla situazione nell'area nordafricana in generale e poi una sua valutazione anche su che ruolo dovrà giocare rispetto invece alla questione del Sahara il nuovo inviato del segretario generale dell'ONU che ha mandato Staffan de Mistura in una situazione obiettivamente molto calda. Le chiedo una valutazione sull'uno e sull'altro aspetto che poi sono naturalmente collegatissimi. Sì, purtroppo come sapete nell'area nordafrica c'è questa decisione unilaterale dell'Algeria di rompere i rapporti con il Marocco ingiustificata certamente c'è la disponibilità sempre del Marocco e anche da parte di Sommesterri di mantenere il dialogo e di dire all'Algeria le nostre mani sono aperte per iniziare un dialogo franco un dialogo diretto con l'Algeria su tutti i sensacomplessi su tutti i problemi. Noi ci aspettiamo che i dirigenti algerini colgano questa opportunità in beneficio della gioventù in beneficio delle nuove generazioni del Maghreb e la zona del Maghreb ne soffre perché è la regione meno integrata nel mondo c'è una frontiera chiusa da più di 20 anni tra l'Algeria e il Marocco che impedisce il scambio economico l'assenza del Maghreb ci causa a tutti i paesi perdere 2% del PIL annuo questo è importante per la regione abbiamo tutte le opportunità per essere una regione complementaria purtroppo questa ossessione dell'Algeria di contrastare l'interesse del Marocco ci ha messo in questa situazione torno al tema la nominazione del signor Staffan de Mistura come inviato personale il Marocco lo ha accolto certamente favorevolmente e ha dichiarato tutta la sua disponibilità per facilitare e sostenere la sua missione la sua missione adesso dopo soprattutto l'adozione della risoluzione 26.02 il 29 ottobre è chiara un mandato chiaro da parte del consiglio di sicurezza dell'ONU quello di ricercare di raggiungere una soluzione politica consensuale negoziata basata sul compromesso pragmatica e realizzabile e in questo senso questi sono i parametri del suo mandato e in questo senso certamente l'iniziativa che ha proposto il Marocco nel 2007 l'iniziativa dell'autonomia per il Sahara marrochino risponde totalmente a questi parametri e che è stata anche qualificata da parte del consiglio di sicurezza come una iniziativa seria e credibile per raggiungere questa soluzione politica a questo deferendo regionale che purtroppo da 46 anni che la regione ne soffre ecco le chiedo conclusivamente di tornare un istante al punto che lei ha evocato il confronto con l'Algeria se lei dovesse spiegare al nostro pubblico qual è la materia del contendere quali sono le questioni principali sul tappeto e quali sono le soluzioni che a vostro avviso potrebbero portare a una composizione intelligente del confronto no è semplice da 46 anni dall'Algeria una diplomazia ha un'azione di ostilità verso il Marocco di contrastare il suo interesse la sua integrità territoriale purtroppo è diventata anche una diplomazia monotematica nel senso che con un solo obiettivo che è quello di contrastare l'interesse del Marocco attraverso la creazione di un problema artificiale che è quello del problema del Sahara e attraverso la creazione di un gruppo separatista terrorista che è il gruppo del Polisario accogliendolo sul territorio algerino armandolo con la manutenzione fino ad adesso di questo gruppo comprando anche le armi da 46 anni quello certamente fa l'Algeria il principale creatore di questo problema la sua responsabilità è chiara e diretta anche da parte della comunità internazionale come lo ha specificato il consegno di sicurezza chi certamente chiama all'Algeria a implicarsi nella conversazione e nella ricerca della soluzione politica con volontà con buona volontà grazie il nostro tempo è concluso l'ambasciatore è stato chiarissimo nella esposizione del suo punto di vista noi ringraziamo sua eccellenza Youssef Balla ambasciatore del Regno del Marocco in Italia lo ringraziamo speriamo di averlo di nuovo presto con noi per commentare sviluppi positivi di questa vicenda noi ci rivedremo dopo la pausa delle festività natalizie dopo l'inizio del nuovo anno ci rivedremo il 14 gennaio intanto grazie a chi ci ha seguito grazie a The Watcher Post sotto la cui egida avvengono questi dialoghi a View From Italy e grazie soprattutto agli Utopia Studios che hanno reso possibile tutto questo buon fine settimana grazie a tutti i dati grazie a tutti i dati Grazie a tutti.